Ciao a tutti, sono a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Sam PresiQuestion e oggi siamo tornati in un nuovo bellissimo We are Buman Free Favorites di dicembre e io vi ricordo come ogni video che We are Buman Free Favorites sono dei video molto importanti perché oltre a dirvi quello che ho visto letto giocato che comunque può darvi qualche spunto per vedere, leggere qualcosa e vi do anche aggiornamenti importanti sul canale, sui video che faccio, vi faccio domande è l'unico modo che abbiamo per parlare a tu per tu così e in tutto ciò comunque vi ricordo di seguirmi su Facebook e Instagram perché do aggiornamenti ancora più speed e se davvero avete qualcosa da chiedermi potete farlo, io per esempio nei messaggi privati rispondo sempre e anche molto veloce per il resto direi appunto di partire con le news che appunto sono di solito la parte più importante le metto pure all'inizio ovviamente come news è più importante c'è che ora sono lievemente più libera poi sto prendendo queste vacanze di Natale come in realtà molto meno che vacanze ma sto davvero facendo tutti gli arretrati delle cose che dovevo fare sto editando i video di Daria Mullet Lovers cioè io sono arrivata con l'acqua alla gola con Mullet Lovers che edito l'episodio per settimana e questa cosa assolutamente no, ora mi voglio portare un po' avanti vi dico soltanto che ieri di quando sto registrando questo video ho editato l'episodio che vedrete lunedì quindi sono un pochino così ma mi sto portando avanti ovviamente ero senza tempo per come avete visto perché ero impegnata a organizzare il compleanno e colgo l'occasione per ancora ringraziarvi di tutto il supporto, di tutto l'affetto, di tutto il calore che mi avete mostrato sotto a quel video ve lo lascio qui se volete vederlo, io comunque vi dico grazie 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 come seconda cosa vi annuncio che mi sa che we have monthly favorites cambieranno un po' l'assetto più che altro apparente perché appunto sono dei video davvero tanti importanti ma che non so perché vengono sempre un po' ignorati a me dispiace che magari possano un po' annoiare, non sono proprio il massimo però appunto almeno l'inizio è importante perché appunto do queste news, queste cose così quindi in caso penso che dall'anno nuovo anziché fare la copertina classica con un po' un misto di quello che vedo fare un qualcosa più accattivante mi viene da dire un po' più clickbait fra titolo e copertina per renderla appunto accattivante giusto per il coso poi per il resto comunque da cosa si riconosce che è sempre un via boom of monthly favorites dal fatto che lo carico l'ultimo del mese che è sempre le stesse cose dirò e che giustamente saranno sempre nella playlist we have a boom of monthly favorites e terza cosa, vi volevo parlare perché ora sembrerà una cosa un po' così però comunque siamo tanti io, come si chiama, per me 450 iscritti sono tanti ora, sperando di raggiungere prima o poi 500 mi piacerebbe fare una sorta di speciale non lo so, magari è troppo presto magari ci arriverò fra sei mesi, l'anno, non lo so comunque mi piacerebbe fare una sorta di speciale in caso, non lo so, cosa è meglio un video dove rispondo a delle domande oppure un video di curiosità su me stessa a me piacerebbe molto un Q&A che una volta io l'ho fatto proprio all'inizio ed era la SequestionAnswer mi piacerebbe molto però appunto la cosa è molti non mi seguono su Instagram quindi la cosa di fatemi domande dove la dovrei dire? perché su Instagram molte persone non la vedrebbero e quindi non mi potrebbero fare la domanda mentre qui su YouTube non posso fare post dovrei fare un video apposta e poi cancellarlo, non lo so avete suggerimenti? mettetelo, ditemi anche se vi piacerebbe l'idea ovviamente perfetto, allora direi di iniziare con le cose che ho visto e partiamo proprio di botta con The Amazing Spider-Man 1 e 2 a me sono piaciuta di tanto in generale mi sono abbastanza appassionata appunto in questi ultimi tempi a Spider-Man perché io mi ero persa praticamente tutto non avevo capito nulla mi sono riguardata tutti i film e mi sta piacendo tantissimo l'unica nota negativa per Spider-Man è l'attore non tanto perché non sappia recitare non c'entra con Spider-Man e cose varie è l'unica cosa che è un po' brutto da dire ma è troppo bello per fare Spider-Man cioè io ce lo crederei benissimo a recitare in tue lette ma per fare Spider-Man mi sembra troppo troppo bello appunto Spider-Man è un po' più semplice non lo so però a livello di recitazione mi piace come Spider-Man assolutamente anche il fatto che sia un po' più sfigliato non mi dispiace sinceramente parlando di Spider-Man ho visto anche Spider-Man No Way Home al cinema e ovviamente facendovi spoiler diciamo che Shrek alla fine me lo aspettavo assolutamente prendiamoci in giro Spider-Man No Way Home è palesemente Shrek quarto i multiversi le cose strane Doctor Strange e Tremotino dai sono tutte cose già viste e l'avevo capito l'avevo capito l'avevo capito è Shrek chi non copia Shrek alla fine dai una cosa divertente un fan fact però non vi posso dimostrare effettivamente che mio suocero ha la faccia uguale ugualissima spiccicata a Doctor Octopus io a Natale lo fissavo così ero tipo fissavo la scena ciao Pete ho visto anche strappare lungo i bordi fra The Amazing Spider-Man e Snow Way Home devo dire che mi è piaciuta molto all'inizio ero un po' me perché è un accento romanaccio che non mi piace tanto però in generale non mi dispiace il romanaccio ecco diciamo ce lo sono nei cinepanettoni mi dà fastidio alcuni sketch li ho trovati troppo troppo divertenti il finale non me l'aspettavo assolutamente infatti è stato un po' strappalacrime artisticamente ovviamente mi piace cioè a scuola stiamo facendo persino un murales su Zero Calcare appunto in classe quindi diciamo che è piaciuta un po' a tutti anche a me poi ho visto Bloom Into You è un anime e praticamente vi ricordo che di ogni anime che vedo c'è la recensione su Wattpad e Wattpad anche questo in descrizione recensione più completa diciamo qua vi dico una cosa speed l'ho trovato molto carino però diciamo che è un po' lento e mi aspettavo qualcosa più alla citrus più che questo però mi è piaciuto comunque come ho detto anche in recensione il cambio prospettiva anziché essere la tipica tizia un po' più che si vergogna un po' più esagerata invece la prospettiva è dalla tizia un po' fredda un po' apatica mi piace questo cambio prospettiva sinceramente anche se non mi ci ritrovo però mi piace il cambio prospettiva poi ho visto ovviamente per Natale un bambino chiamato Natale mi è piaciuto davvero tanto come film come concetto diciamo che a Natale non sono solita guardare film di Natale forse l'ultima volta che cioè ho visto ma non ho perso l'aereo forse soltanto una volta in vita mia quando avevo un pezzo di sette anni qualcosa del genere quindi comunque secondo me c'è stato tutto a me come film mi è davvero piaciuto mi stava proprio qua sul cazzo la zia di Nicholas mamma mia l'avrei messa sotto al treno ci sarei atterrata con la renna però alla fine è un po' tutto così magico un po' tutto così bello e mi piace un pochino questo messaggio di se credi nelle cose succedono mi piace mi piace passando brevemente a ciò che ho letto ho letto il volume di Steven Universe dove Steven va a scuola carino anche questo anche se non aggiunge effettivamente qualcosa alla trama è soltanto un episodio così e per quanto riguarda i giochi ho finito finalmente tutte le route principali di Mulla Trovers ora mi resta soltanto che editarle e basta caricarle voi li vedrete ovviamente sempre una settimana editarle caricarle e basta per ora ho iniziato quella di nail e vi devo dire che quella di nail come inizio mi sta piacendo molto di più di tutte e sei messe assieme e nail come bambino nemmeno mi piace ma come storia devo dire che è molto meglio di tutte e sei wow non vedo l'ora che la vediate anche voi finiamo con gli acquisti dove a parte questo pigiamino che è pantaloncini estivo ovviamente e maglietta di siamo solo orsi vi rimando invece ai video unboxing haul dei miei regali di compleanno di cosa ho comprato al palermo comicon perché ho davvero troppe cose da mostrarvi troppe cose che ho comprato ricevuto quindi vi rimando direttamente i video sono entrambi o qui o nella descrizione in generale sono nel canale insomma vedeteli perché ci sono un sacco di cose interessanti secondo me ho il link in descrizione l'ho comprato su shane a 8 euro e niente concluderei in bellezza con la salsa del mese che questo mese è 38 48 95 niente con quest'ultimo video dell'anno ho finito io vi faccio vedere queste bellissime unghia che mi sono fatta da sola c'è il pupazzo di neve però non si vede in cazzo vabbè sbrillucci cose le indosserò anche a capodanno vabbè appunto stasera vi auguro ovviamente un buon inizio dell'anno mangiate assai mi raccomando e niente se questo video vi è piaciuto mettete mi piace commentate condividete e iscrivetevi al canale ciao a tutti